Ben trovati, eccoci ad un video tutorial dedicato agli effetti in Adobe Premiere. Come anticipato nel video precedente, oggi vedremo praticamente come utilizzare gli effetti video in Adobe Premiere. Faremo un esempio, vedremo in particolar modo come utilizzare l'effetto ritaglia per appunto ritagliare, in inglese si direbbe croppare dal verbo to crop, una porzione di immagine per magari avvicinarla ad un'altra immagine. Per accostare due immagini una a fianco all'altra, avete presente tutti l'intervista doppia delle Iene, nell'intervista doppia delle Iene, così come un po' in tutte le interviste doppie che poi si sono fatte, due o più persone vengono avvicinate l'una a fianco all'altra, chiaramente tagliando la porzione di immagine superflua, in maniera tale da fare entrare tutti quanti in uno spazio che comunque è limitato. Senza perdere troppo tempo vi faccio vedere la bagianata che mi sono inventato per potervi dare una dimostrazione di quello che faremo. Mi sono ipotizzato in una conversazione con me stesso, utilizzando due video chiaramente registrati in due momenti diversi. Mi rendo conto che è abbastanza idiota quello che ho fatto, ma credo che almeno in questo modo io poi vi possa mostrare come un semplice effetto possa darci la possibilità di creare qualcosa di potenzialmente interessante. Guardate la bagianata che mi sono inventato intanto. Eccoci, in questo video voglio parlarvi di alcuni tutorial molto interessanti. Stai facendo i tutorial video... Eh, lo so che sono buio, che purtroppo non ho una telecamera, vado col fuoco tutto automatico. Eh vabbè, tutte scuse, tutte scuse. Cioè, devi farmi bene, hai ragione. Non li puoi improvvisare. Ecco, mi rendo conto che il video è abbastanza idiota, ma serve, mi serve questa scemenza per mostrarvi come poter prendere due video che altrimenti presi singolarmente sarebbero comunque molto grandi, occuperebbero l'intero fotogramma, per metterli appunto uno vicino all'altro. Come potete vedere io mi sono ripreso in due momenti diversi guardando chiaramente nella direzione opposta in un video e in un altro e poi sostanzialmente ho ritagliato le immagini, come potete vedere, per chiaramente selezionare, centrare, mettere a fuoco soltanto il volto e poi con la classica opzione disponibile nel pannello controllo effetti, posizione, muovere e posizionare la clip video in maniera opportuna e avvicinando appunto le due mie versioni di me stesso. Ecco, mettiamola in questo modo. Come ho fatto a realizzare tutto questo? Con l'effetto ritaglia. Allora, iniziamo da capo, così vi faccio vedere rapidamente come ho realizzato questo effetto. Chiaramente ho preso il primo video, l'ho messo in timeline, chiaramente questo è un messaggio che, come già detto in un video passato, vi comparirà spesso ogni qualvolta voi andrete a creare una sequenza che ha delle caratteristiche differenti dal video originale. Ora io non so la caratteristica, probabilmente è il frame rate del mio cellulare che era impostato a 30, la sequenza è impostata a 25, Premiere mi domanda cosa devo fare? Mantengo la sequenza così com'è oppure la adatto a come hai creato tu il video? Io dico no, no, la sequenza, sono sicuro che deve essere fatta come l'ho creata e quindi mantengo sostanzialmente le impostazioni così come sono. Ok? Quindi ho preso il primo video, ho preso anche il secondo video, li ho messi uno sopra l'altro. Come già abbiamo detto nei video passati, comanda il video che è sopra. Ok? Quindi chiaramente questo video qui va a coprire il video che si trova subito sotto. Questo spero che sia ormai giunti a questo momento, a questo punto del corso abbastanza chiaro. Oh, chiaramente ho cercato uno pseudo sync, io ho girato questo video in maniera totalmente casuale e sono stato anche abbastanza fortunato nel beccare una certa sincronicità tra le mie due chiacchierate. Per esempio, vedete che, per darvi una dimostrazione pratica, guardate l'onda. Questo è l'audio chiaramente del primo video, questo è l'audio del secondo video. Per cercare di dare una credibilità, una parvenza di conversazione, chiaramente devo far parlare il secondo me quando il mio primo me finisce di parlare. Quindi, orientativamente, metto a sync le due conversazioni, vediamo com'è. Più o meno, dai, adesso non dobbiamo essere maniaci, è giusto per farvi capire quello che stiamo facendo. Oh, però chiaramente così io il video non lo posso lasciare. Perché non posso lasciare il video in queste condizioni? Perché chiaramente io così facendo vedrei soltanto il secondo me, quello bacchettone, no? Quello che rimprovera il me cialtrone, ecco. Come si fa? Allora, la prima cosa che verrebbe istintiva a fare è di prendere questo secondo video e spostarlo, vedete, a destra. Però chiaramente, guarda che faccia che c'ho, mamma mia. Però qual è il problema, chiaramente? Che se io sposto questo secondo video troppo a destra, chiaramente il mio me bacchettone va fuori schermo, no? E quindi non otterrei l'effetto desiderato. Quindi che cosa faccio? Allora, mi ripristino la posizione del secondo video in maniera tale che sia così centrata, com'era di default. Applico un effetto che si chiama effetto ritaglia. In inglese credo che sia crop, ma credo di poter confermare che sia proprio crop. Cerco comunque l'effetto ritaglia, ecco, io già l'avevo cercato. Lo applico chiaramente al video in questione, che è quello sopra a tutti, che va a coprire il video che sta subito sotto. Quindi lo applico. E come potete vedere qui nel pannello controllo effetti viene aggiunto l'effetto ritaglia. Cosa fa l'effetto ritaglia? Eh beh, è molto semplice. Sostanzialmente serve per ritagliare da sinistra, in alto, a destra, in basso. Guardate, io clicco col tasto sinistro del mouse e trascino verso destra. Vedete che questo effetto mi va a ritagliare, in questo caso da sinistra, ma posso ritagliare anche dall'alto, posso ritagliare anche ovviamente da destra e posso ritagliare chiaramente anche dal basso. Allora, io faccio un ritaglio grosso modo della mia faccia, ipotizzando poi che andrò un pochettino in avanti, eh. Vedete, qui vado in avanti, quindi magari posso tenermi anche un pochettino largo nel ritaglio. Chiaramente, eh, a destra non serve ritagliare perché tanto questo, tanto questo video lo sposterò a destra, quindi comunque verrebbe mangiato. Sposto subito il video, eh, verso, verso destra. Ecco, recupero il, forse ho tagliato anche in basso. Sì, infatti, ecco, mettiamolo per intero. Ecco, considerate che attivando dal menu del monitor programma la possibilità di avere i margini di sicurezza, io ho questa griglia bianca intorno al fotogramma. Questo trattino che vedete qui, che potete vedere sia nella sezione orizzontale che in quella verticale, indica grosso modo il centro del fotogramma. Quindi nel posizionare questo, questo video, questa faccia, chiaramente tenete in considerazione che questo è grosso modo il centro del, 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 orizzontale del fotogramma. Quindi direi con il primo video, quello di me bacchettone, abbiamo trovato una quadra, ok? Sì. Forse, ecco, potrei spostarlo, sistemarlo un po' meglio, ecco qua. Perché è vero che poi vado avanti, però vado avanti per un pezzettino. Ecco, direi che così può andare, dai. Sistemiamo adesso il video che è subito sotto. Come ho già avuto modo di dire, ma lo ripeto ancora perché mi rendo conto che per chi non ha mai montato in vita propria può essere un concetto un po' complesso. Il video che si trova, in questo caso, in V1, ok? Si trova sotto al video che si trova in posizione V2 e questo, direte voi, è logico. Questa gerarchia comporta il fatto, e lo ripeto, che il video che è soprattutto, quindi il V2, questo di destra, vedete, lo spengo così potete capire, va a coprire il video che si trova subito sotto. Quindi, in questo caso, il V1. Detto questo, perché lo sottolineo ancora? Perché dopo aver posizionato il video V2, ok? Questo qui di destra, nella posizione desiderata, devo adesso andare a posizionare il video di sinistra, che è chiaramente il video V1 che si trova sotto al video V2. Quindi, lo seleziono, è importante selezionare il video corretto, perché se io mantengo selezionato questo video, vado a modificare ancora questo video, ma non è quello che voglio. Quindi, seleziono il video che ci interessa, in questo caso il V1. Provo a vedere se posso sistemarlo senza ritagliare. Teoricamente sì, ma se io volessi, per esempio, qui tenere un po' di nero, per separarlo nettamente, applico anche qui l'effetto ritaglia. Vedete? Aggiungo l'effetto ritaglia al mio pannello controllo effetti. In questo caso ritaglio da destra. Vedete? Ecco qui. Cerco un minimo di simmetria. E vedete che io ho lasciato sostanzialmente un vuoto tra le due clip. Non l'ho detto prima, ma lo dico adesso. Quando applicate l'effetto ritaglia, così come quando spostate o scalate un'immagine, è facile, molto più facile, lavorare se utilizzate queste maniglie blu. Ok? Basta selezionare l'effetto ritaglia, vi vengono mostrate queste maniglie. Ecco, invece di andare a lavorare direttamente su questi valori, potete lavorare direttamente su queste maniglie. Attenzione però, se lavorate su Windows, perché se lavorate sui sistemi Windows, specie nelle ultime release di Premiere, può capitare che questo bordino blu non vi venga mostrato. E' un bug, purtroppo noto, di Premiere, se questa bordatura azzurra non vi compare, quindi queste maniglie non le avete a disposizione, dopo chiaramente aver provato a selezionare nuovamente l'effetto, provate a scalare nuovamente il monitor e vedrete che il problema vi sarà risolto. Ecco, diciamo che è un piccolo bug di Premiere e speriamo che lo risolvano presto. Comunque, dicevo, ho ritagliato anche il video V1 in maniera tale da avere un po' di spazio tra il video V1 e il video V2 e sostanzialmente abbiamo fatto, abbiamo messo queste due facce una a fianco all'altra. Io quello che ho fatto in meno rispetto all'altro video è ritagliare un po' sopra e un po' sotto. Posso farlo anche qui senza problemi, per esempio se voglio fare una cornicina un pochettino più piccolina, posso farlo, chiaramente modificando il video V2 vado a modificare il video V1, faccio la stessa cosa, posso ritagliare questi due video, vedete, magari uno lo porto più in alto, ho sbagliato, contro Z, dicevo, uno lo porto più in alto, magari l'altro lo porto un pochettino più in basso ed ecco che ho creato sostanzialmente un ritaglio di un video in maniera tale da poter avere spazio per mettere più oggetti all'interno dello stesso frame. Oh, io questo esempio chiaramente l'ho fatto con soli due video, ma nessuno vi vieta di mettere quattro persone uno a fianco all'altra, per esempio, di metterne otto, quattro sopra e quattro sotto, potete lavorare come volete. Andate a vedere le interviste triple e quadruple delle Iene per capire un po' come hanno fatto loro, perché poi il trucco alla fine è quello, no? Ritagliare una porzione di video, spostarla in maniera da comporre un frame carino, non come ho fatto io, magari si spera un pochettino meglio, articolato, complesso, carino, bello da vedere, e il gioco è fatto. Come potete vedere, un semplice effetto, l'effetto ritaglia, e chiaramente gli effetti di default dei video, quindi la posizione in questo caso, ci aiutano a creare qualcosa di, magari, un pochettino più complesso rispetto al solito. Oh, non l'ho detto, ma nessuno vi proibisce di rimpicciolire un video, no? Di ruotarlo, questo sta alla vostra fantasia, eh? Io adesso sto lavorando, diciamo, soltanto sul video, ecco, per esempio, volevo spostare questo video, non riesco, ecco, lo seleziono, adesso posso spostarlo. Dicevo, nessuno vi vieta di giocare e di fare quello che voi volete, quindi lavorando di fantasia, ok? Sapete adesso che un video può essere ritagliato, nel prossimo video tutorial impareremo a oscurare un volto, ovvero, metti caso che io non voglio far riconoscere il mio brutto faccione, e voglio essere tutelato, voglio tutelare la mia privacy, o la privacy della persona che sto intervistando, nel prossimo video vedremo come oscurare un volto, sfocandolo o applicandogli un effetto mosaico, eccetera, eccetera. Quindi, registratevi a questo canale YouTube, se vi fa piacere seguire questi tutorial, venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it perché lì trovate gli articoli con scritto quello che abbiamo fatto in questa lezione. Grazie ancora per l'interesse che dimostrate a questo corso, qualunque domanda chiaramente bene accetta, abbiate pazienza sui tempi, cerco di rispondere quanto prima, commentate sul sito internet, commentate anche qui sotto, al prossimo tutorial, basta così, siamo andati già anche troppo per le lunghe. Ciao!